è il filmino quindi puoi tranquillamente parlare ho dato un'emozione questo guarda che era già un po' che non la provavo perché mentre scendevo girano un po' il fungo mentre scendevo ho visto questa cappella così detto mamma mia che bellezzona qui a me così l'anno scorso trovaste bella e più o meno è il peso dell'anno scorso no era un po' di più quello quelle t'hanno fregato e stanno ma rimettere un po' lì al suo posto allora così occhi e croce grosso modo sono 2 2 5 5 dovrebbe essere all'incirca sette chili e mezzo di funghi circa sette chili e mezzo di funghi brava la pruna un sorrisino ti sia divertita allora una buona parte di quelli quell'ultimi che ha trovato che sono un chilo quantità detto l'ultimo 4 50 tra più o meno giù per la crocina il moro è lì ho già detto dove non lo ripetiamo e quell'altro l'ho fatti io ma anche questo della crocina potevi sta tutto perché poi rimane lì ma rimane lì ma tanto in questi giorni c'è più nessuno poi quando ci siamo andati noi dai ora si viene